Ma è innegabile che quando le cose non funzionano è chiaro che poi dopo si cerca sempre di far finta che uno non c'entri e si addossano responsabilità ad altre situazioni, ad altre cose. La responsabilità è un qualcosa che ci deve appartenere sempre, chiaramente ciascuno nei propri ruoli, però quello che c'è da cambiare sostanzialmente è tornare alla vittoria. Tornare alla vittoria oggi è necessario e come tornare a bere dopo una settimana di siccità abbiamo bisogno necessariamente di vincere e mi auguro di far sì, se mai ci fosse bisogno, di trasferire questo tipo di mentalità alla squadra. Non credo perché comunque quando si consuma un esonero chiaramente si è già consapevoli che un mezzo guai è stato fatto, quindi da questo punto di vista penso di avere a che fare con dei ragazzi estremamente consapevoli della situazione, però probabilmente potrebbe non essere necessario. A cominciare da domenica andremo ad Udine con l'intento di pizzicare la partita e cercheremo di fare di ogni per portare a caso un risultato positivo. Quando si deve mettere insieme un gruppo che deve diventare squadra, ciascuno deve mettere la sua esperienza a disposizione del gruppo, ma stare sotto lo stesso detto significa stabilire due o tre idee chiare, chiave, nei confronti delle quali tutti si devono confrontare, si devono riconoscere e attraverso le quali si diventa un gruppo solido.